mamma papà mi aiutereste a fare i compiti non voglio più sentirti non ascolti mai quello che dico state litigando di nuovo io non lo mangio mangia quello che vuoi mamma papà posso mangiare qualcosa ok queste scarpe hanno 100 anni ma ne hai un sacco di nuove e i genitori fratello uso il tuo portatile e tu tieni questo ma non dirlo a nessuno grazie nancy vuole fingere di essere scomparsa ho capito il piano ora vediamo cosa faranno quando scopriranno che la loro figlia è scomparsa sto osservando tutti puoi smetterla di urlarmi contro sei tu che mi urli contro quindi è di nuovo colpa mia non ho detto questo questo è per voi cosa la nostra nancy è scomparsa dobbiamo trovarla nancy piccola dove sei la cerchi con la lente d'ingrandimento bel lavoro sherlock non è nemmeno nella cassettiera non è sotto il cuscino che facciamo è colpa tua se se n'è andata no è proprio come te chiami il 911 mia figlia è scomparsa può venire un agente salve l'agente marconi è a vostra disposizione mia figlia è scomparsa no è mia altezza media mi ascolti agente no ascolti me ecco una foto per favore la trovi il prima possibile mamma papà guardate qui possiamo prendere un cane potrebbe aiutarci a trovare nancy il suo zaino annusa cucciolo e raccogli l'odore cerca nostra figlia seguilo cosa c'è qui nancy è nell'armadio le è sempre piaciuto nascondersi lì trovata è solo cibo per cani davvero buddy sei un inutile cane da ricerca bel lavoro amico ora non mi sentirò più così sola un'esca con le scarpe una su questa bocchetta e l'altra laggiù bel piano di chi sono le scarpe da ginnastica nancy deve essere nel condotto questa è la scarpa di nancy posso trovarla da sola attento a dove gattoni ma che ci fai qui che bella cena romantica non passavamo una bella serata da una vita il mio piano ha funzionato nancy stai pure lì amico non sei nancy nancy dai mamma scusa tesoro nancy sapevo che era in bagno posso aspettare perché ci vuole così tanto finalmente nancy è meglio non usare il bagno per ora questa non è nancy seguire i miei genitori è estenuante ho bisogno di mangiare i miei dolcetti preferiti e anche questi prendo anche questa adoro i dolcetti nancy ha lasciato un indizio molto ovvio devo confondere i miei genitori ecco fatto bene 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 questa è una traccia chiara a cosa ci porterà qui c'è stato un dolcetto seguimi altri incarti il sentiero degli incarti gira qui seguimi questa carta è una prova evidente oh tesoro mamma papà ciao hai mangiato tu tutti questi dolci non ci porterà da nancy per un pelo siamo stati ovunque il corridoio la cucina il bagno ho fame oh no i miei genitori sono accanto alla porta della dispensa ehi casa intelligente accendere tv in salotto eccellente tutto libero posso andare i miei genitori sono così presi dal film che non mi noteranno nemmeno che scena esilarante ops che c'è ce lo siamo immaginati nancy potrebbe essere al college capelli sono come quelli di nancy libertà finalmente no quella non è nancy guarda l'armadietto di nancy è laggiù posso aprire la serratura ci sono tutti i nostri litigi guarda è un invito a una festa nancy deve essere lì vieni sta andando tutto secondo i piani nancy deve essere qui troviamola nancy scusami nancy non è lei nancy continuate a ballare hai avuto fortuna? nessuna fermi qualcuno ha visto questa ragazza? no ok bruce andiamocene è un bel film sugli alieni bruce veniamo in pace bruce che succede? ok incubo è solo una maschera facciale perché hai urlato? giusto non abbiamo guardato in dispensa oh i miei genitori sono vicini cosa devo fare? controlliamo se nancy è lì no 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 ascolta marcella la sensitiva una palla magica vi dirà dove si trova vostra figlia vedo nancy è in un negozio grazie grazie sensitiva va tutto bene sorellina me ne sono occupato io grazie mark guarda questa foto ed ecco tutta la nostra famiglia unita eravamo così felici oh guarda la nostra torta se la prepariamo tornerà subito a casa ok tesoro fai tu l'impasto è da un po' che non cuciniamo insieme sembra che abbiano fatto pace la nostra torta d'autore è pronta non toccarla mark stiamo aspettando nancy sono sicuro che verrà a prenderla da un momento all'altro ma perché non torna? sono così tristi bene sono io ehi mamma e papà sono tornata la nostra nancy ci sei mancata così tanto finalmente tutta la famiglia è tornata insieme e nessuno litiga fratello ce l'abbiamo fatta ben fatto sorellina è una notizia l'abbiamo fatta che l'abbiamo fatta Grazie a tutti.